allora buonasera a tutti ragazzi e ragazze benvenuti nuovamente su vehicle tech in questo nuovo video vedremo appunto le auto elettriche dal momento che sono sempre più diffusi vediamo un po le caratteristiche i componenti e le funzionalità di questa tipologia di vetture come sempre prima di continuare con il video vi invito a iscrivervi al canale questo per supportarmi e per non perdervi i prossimi video e prossimi approfondimenti allora innanzitutto per veicolo elettrico si intende un veicolo nel quale la fonte di energia utilizzata per la produzione di potenza e di coppia alle ruote è fornita non da un combustibile fossile tradizionale come può essere benzina gasolio gpiello metano ma dall'energia derivata da reazioni elettrochimiche che si realizzano appunto nell'accumulatore che è la batteria negli ultimi anni tutte le nuove auto elettriche prodotte sono nate su piattaforme specifiche su telai specifici in questo modo si è potuto avere i vantaggi in termini di abitabilità distribuzione dei pesi delle masse delle componenti e si è potuto approfittare veramente di tutti i vantaggi che questa tecnologia porta con sé ora vediamo più nel dettaglio quali sono tutte le componenti che sono presenti in un'auto elettrica perché ovviamente è del tutto diversa da un'auto con motore convenzionale allora innanzitutto io ho fatto una schematizzazione in tre sottosistemi principali e li vediamo qua in tre colori allora proprio il sistema di propulsione elettrica caratterizzato dalla presenza di un motore elettrico di un controllo del veicolo quindi una centralina di controllo dalla trasmissione meccanica poi vedremo in che forma e con quali differenze e da un convertitore elettronico di potenza che ora vedremo di cosa si tratta poi è presente la sezione che riguarda lo storage di energia ovvero la tutta la parte di accumulazione di gestione dell'energia elettrica quindi ovviamente la batteria il sistema di controllo della batteria che è uno dei sistemi più importanti presenti all'interno di un'auto elettrica è quello che viene detto bms ovvero battery management system che poi sicuramente approfondirò in altri video perché sono argomenti davvero interessanti e poi dal sistema di ricarica della batteria ovvero tutto il sistema che gestisce nel migliore dei modi e con l'efficienza massima possibile e per evitare soprattutto danneggiamenti della batteria appunto che ne permette la ricarica da fonti esterne dalle colonnine dalle prese dai caricatori esterni l'ultima sezione presente in auto elettrica è quella relativa agli meccanismi ausiliari che se in una macchina col motore termico solitamente sono la loro energia per il funzionamento ad esempio l'aria condizionato del servo sterzo viene prelevata direttamente dall'albero motore del motore termico in questo caso invece sono tutti hanno tutto un funzionamento elettrico leggermente diverso sia per esempio per il servo sterzo e poi c'è tutto il sistema di riscaldamento e condizionamento dell'abitacolo e il sistema di mantenimento della temperatura di tutte le parti elettroniche e soprattutto della batteria infatti la batteria deve stare in un range di temperatura ben preciso per ottenere la massima efficienza di funzionamento vediamo ora un po come interagiscono questi sistemi tra di loro ed è qui che proprio il fulcro del funzionamento di un'auto elettrica partiamo dall'acceleratore del freno che non sono più ovviamente dei comandi meccanici in realtà non lo sono quasi più da tempo ma questi la pressione sui due pedali genera un segnale dalla leggenda che vedete qui in alto con in in nero ho segnato i collegamenti meccanici in giallo i collegamenti di segnale quindi sono segnali tra queste due componenti e in verde invece i collegamenti elettrici veri e propri quindi la pressione su uno dei due pedali genera un segnale questo segnale va alla prima centralina che gestisce tutto il sistema ovvero il sistema di controllo del veicolo della prima sezione il sistema di controllo del veicolo a sua volta controlla in base alle informazioni che gli arrivano dai sensori o tra sensoristica dei pedali e da altre e dall'altro sistema di controllo della batteria del secondo sottosistema manda un segnale al convertitore di potenza allora il convertito elettronico di potenza semplicemente diciamo gestisce i flussi di energia e di potenza tra la batteria ovvero il sistema di accumulo e i motori il motore i motori elettrici inoltre garantisce che venga trasformata la tensione dalla tensione continua in uscita ai terminali della batteria che è una tensione continua insieme di si fino a e la trasforma una tensione alternata necessaria per il funzionamento dei motori elettrici infatti solitamente si parla di inverter quindi il controllo veicolo da dei segnali all'inverter che appunto gestisce la potenza e fa sì che arrivi la corretta quantità di energia elettrica e attenzione al motore o ai motori elettrici i motori elettrici sono collegati tramite una trasmissione meccanica di cui poi vedremo un paio di architetture diverse alle ruote così come avviene diciamo con un veicolo tradizionale nel secondo sottosistema abbiamo già nominato il controllo batteria il bms che agisce sia in funzione di parametri termici della batteria sia in funzione di parametri elettrici ovvero sul funzionamento della carica la scarica la batteria in quel momento la tensione delle celle e altri parametri molto importanti il controllo della batteria riceve informazioni sia dal controllo veicolo e dalla batteria stessa quindi tramite lo scambio di segnali in giallo e fa sì che la batteria possa erogare energia motore elettrici quindi tramite il convertito di potenza oppure è anche ovviamente tutti i sistemi ausiliari che le richiedono qui è presente anche il sistema di ricarica ovvero tutto il sistema che accetta energia in ingresso dall'esterno quindi la ricarica della batteria dall'esterno dalle colonnine dei sistemi di ricarica domestici e anche questo ovviamente sotto lo stretto controllo del sistema di controllo e la batteria ma anche la ricarica non è una ricarica lineare assolutamente no varia nel tasso di ricarica la velocità di carica varia in funzione di una moltissimi parametri ed è anche suggestiva da questa da questo sistema di controllo vediamo quindi qualche architettura meccanica possibile con auto elettrica perché si può partire diciamo da una configurazione più tradizionale in cui è presente un motore elettrico in un'asse che sia anteriore o posteriore associato quindi a un rapporto finale come abbiamo detto in altri video lo linko qui in un'auto elettrica non è necessario strettamente necessario un cambio vero e proprio solitamente è presente un singolo ingranaggio un singolo riduttore di velocità e poi il motore elettrico è ovviamente collegato al differenziale che ne gestisce la trazione tra la ruota destra e la ruota sinistra questo è più o meno la configurazione più tradizionale la seconda opzione invece è quella che fa meno del differenziale quindi un componente meccanico in meno ma gestisce la trazione tra le due ruote motrici dello stesso asse quindi le due ruote anteriori o le due ruote posteriori o tutte e quattro tramite la presenza di due motori separati uno per ogni ruota quindi c'è un motore un singolo rapporto per ogni ruota posti al centro della sale questo ha indubbiamente una serie di vantaggi e ci sono alcune alcune autovetture attualmente in commercio che usano questo questo schema di funzionamento l'ultima possibilità un po meno diffusa per una serie di problemi è quella che prevede è proprio l'installazione di un motore elettrico con un ordiduttore bicicloidale che è già nominato in altri video per esempio quello presente nel sistema ibrido toyota ve lo unico qui in descrizione che permette dei rapporti di riduzione molto molto forti in poco spazio quindi questo gruppo viene montato proprio all'interno della ruota quindi lascia libero tutto tutto la sale tutta la parte tra le ruote sostanzialmente rimane libera quindi la disposizione dello spazio dell'abitacolo dei bagagliai è una configurazione tuttavia poco usata perché ha dei problemi in quanto avere una massa non indifferente in più sulla ruota viene chiamata massa non sospesa è un problema per quanto riguarda la risposta del veicolo risposte dinamiche del veicolo a questo punto vediamo un po quali possibilità offre un'architettura elettrica quindi un power train elettrico di questo tipo allora innanzitutto si può creare un sistema 4x4 quindi con trazione su entrambi gli assi privando tutto di differenziali ripartitori di coppia tutti questi sistemi meccanici non saranno presenti ma se ad esempio basterà inserire un motore per ogni asse oppure addirittura quattro motori che gestiscono le singole ruote e tutto viene gestito elettronicamente quindi dal cervello di controllo controllo veicolo il secondo la seconda possibilità è quella di operare il cosiddetto torque vectoring però in maniera molto più più efficiente infatti il torque vectoring non è altro che la distribuzione della coppia alla singola ruota per migliorare le caratteristiche di trazione e di dinamica di guida ora tradizionalmente questo viene fatto tramite dei differenziali attivi cioè controllati elettronicamente oppure frenando la ruota una ruota o l'altra interna esterna alla curva per cercare di simulare quello che può fare un sistema a differenziale attivo ecco il torque vectoring invece nel caso in cui sia presente un motore dedicato a quella ruota si può capire bene che il torque vectoring viene fatto elettronicamente cioè dal sistema di controllo basterà dare più potenza più coppia o meno coppia a quel singolo motore cioè a quella singola ruota per avere questo effetto di torque vectoring di distribuzione della coppia e nel caso si abbiano quattro motori per le quattro ruote si può fare un torque vectoring sulle quattro ruote quindi anche un sistema di 4x4 gestione della trazione in condizioni difficili molto efficiente tutto questo inoltre porta anche a miglioramenti in assoluto ovviamente anche sulla abitabilità e sulla possibilità di creare degli abitacoli diciamo diversi da quelli a cui siamo abituati infatti nei pianali di nuova generazione la batteria che è il componente più grande e pesante viene posto alla base del telaio sopra la batteria viene messo appunto viene costruito diciamo l'abitacolo e dunque se abbiamo configurazioni di questo tipo addirittura di quest'altro tipo tutto lo spazio sicuramente sotto l'abitacolo rimane libero a disposizione e al massimo è occupato una piccola parte giusto in corrispondenza dell'asse delle ruote tutti gli altri ingombri saranno totalmente assenti sicuramente più limitati allora per questo video è tutto spero di essere stato abbastanza chiaro avrei mostrato le caratteristiche diciamo di base fondamentali di un'auto elettrica se vi è piaciuto questo video volete altri video di questo tipo magari relativi anche alle automobili a benzina diesel o ibride o magari fuel cell idrogeno metano lasciate un commento lasciato un like così che posso capire se siete interessati a questa tipologia di contenuto in particolare come sempre per il resto vi invito a iscrivervi al canale lasciate un like quindi se il video vi è piaciuto ci vediamo ai prossimi col prossimo video ciao ciao